Aprei Luciana! No! Esci che siamo ancora in tempo Luciana! Lì non ci tornerò neanche volta! Ma perché mi fai questo? Perché sono comunista! Luciana, me lo dai un bacio? Però senza lingua. Ma ti sembra questa l'ora di tornare a casa? Te ne stai sempre in giro con quel ciccione del fidanzato? No, Armand! Ma perché non è ciccione? Quando uno è ciccione, è ciccione! È venuto per me! È solo una tua immaginazione! Da Sam Raimi, il regista di Spider-Man! Dove vuole portarmi? A bruciare all'inferno per l'eternità! Drag me to hell! Dall'11 settembre al cinema! Ci sono donne che vivono per sempre! Vive! Donne che non si arrendano! Sfogliati! Quando tutto questo sarà passato qualcuno dovrà ricordarmi! Le 13 rose Tu e io insieme per sempre! Per 50 anni gli indizi sono rimasti sepolti! Ora lo schema è stato decifrato! Papà, chi sta succedendo? Segnali dal futuro! Se un matrimonio è in crisi, non disperate! La soluzione arriva dalla Svezia! Il problema fondamentale in quasi tutte le relazioni è comunicare! Sono innamorata di Erland! Siamo adulti! La cosa più razionale da fare è cercare una soluzione! Potremmo vivere qui tutti insieme! Posso sdraiare? Mi sono letto accanto a voi! Una soluzione razionale dal 9 settembre al cinema! Il ritorno di un maestro del grande cinema italiano Le ombre rosse Un film di Francesco Maselli Sono cintano Vogliono cambiare il mondo Prima che il mondo cambi loro Riccardo Scamarcio Jasmine Trinca Luca Argentero Laura Morandi Il grande sogno Un film di Michele Placido Dall'11 settembre al cinema Lucky Red presenta il film più atteso Del premio Oscar Miyazaki Tu ti chiami Totoro, non è vero? Papà, May dice di aver incontrato un Totoro qua giù Con una bocca fatta così Dal creatore di ponio sulla scogliera Finalmente in Italia Il mio vicino Totoro Dal 18 settembre al cinema L'istinto vi porta dove nessun altro oserebbe andare A non arrendervi mai Questa è l'occasione di mostrare il vostro valore Via, via, via! G.I. Joe La nascita dei cobra Scritto e diretto da Woody Allen Quanti anni hai? Ne ho 21 Se tu hai 21 anni, io gioco negli Yankees Lei è un atleta professionista, così zappo con me Oh signore Basta che funzioni Dal 18 settembre al cinema G.I. Joe